buongiorno sono patrizia di nato della rombo serie immobile esclusivi oggi ci troviamo ad ostia ostia ponente esattamente in corso duca di genova e ci troviamo questo bel complesso immobiliare a pochi passi dal mare e sto per presentarvi un interessante trilocale in vendita da ristrutturare con giardino andiamo l'appartamento fa parte di un bel complesso condominiale con tre entrate e tre portieri eccoci a casa entriamo direttamente nella zona giorno che è molto ampia questo bellissimo parquet e dalla zona giorno possiamo andare direttamente nel giardino il portone blindato il riscaldamento condominiale con contabilizzatori abbiamo il parquet naturale nel soggiorno in una camera il resto è in grass porcellanato ci sono i condizionatori una delle tante caratteristiche di questo appartamento oltre essere vicino al mare sono questi soffitti molto alti il che è molto difficile da trovare attualmente nelle case qui ci troviamo nel disimpegno dove ci sono due camere doppie dal letto di cui una ha un terrazzino qui abbiamo un bel bagno molto grande con finestra e vasca la cucina abitabile e conduce direttamente ad un ampio spazio esterno veramente molto comodo fissi sono in legno naturale ci sono le inferriate e anche le zanzariere inoltre ci sono i condizionatori in tutta casa il giardino è privato sono circa 100 metri ed eccoci nello spazio esterno è molto comodo pensate a poter mettere un tavolo per poter cenare le sere d'estate quanto può essere interessante qui abbiamo un'altra parte del giardino che è piastrellata dove possiamo creare una zona living esterna sotto casa potete trovare varie attività commerciali tra cui bar ristoranti supermercati e anche le scuole guardate che bella palma vi ricordo che siamo a cinque minuti dal mare e mi raccomando seguitici su tutti i nostri social e da qui vi saluto e vi aspetto ciao a tutti ciao ciao ciao